Cari amici, oggi dobbiamo comunicarvi decisioni importanti che riguardano il Covid e che riguardano ovviamente la nostra vita e quella delle nostre famiglie. Io pensavo di impegnare alcuni minuti in questa trasmissione per rispondere in maniera dura ad una campagna di sciacallaggio politico e mediatico messa in atto da settimane contro la nostra regione. Ma per quella che è la nostra situazione, la situazione generale, credo francamente che non ci sia tempo da perdere. Ne parleremo in altre circostanze, in maniera puntigliosa. Non dimenticheremo nulla. Ma oggi, francamente, abbiamo da pensare ad altro. Oggi siamo chiamati oggi, non domani. A prendere decisioni forti e definitive. Forti, definitive, efficaci. Per fare fronte ad una situazione che è diventata pesante. Ogni giorno che passa rischia di aggravarsi in maniera insostenibile la situazione dell'epidemia. Per questo, io ritengo che non ci sia più un'ora di tempo da perdere. E perfino l'ordinanza che entra in vigore oggi è già superata dai dati del contagio con i quali dobbiamo fare i conti. Io credo che dobbiamo decidere oggi, non domani, non fra una settimana. Perché davvero non abbiamo più davanti tempo da perdere. Vi anticipo che io comunicherò al governo non solo la mia richiesta di lockdown su tutta Italia. Ma per quello che riguarda la campagna procederemo in direzione della chiusura di tutto. Avevamo immarginato, ripeto, con l'ordinanza che entra in vigore oggi, una misura parziale. Ma per i dati che abbiamo non basta più neanche questo. Dobbiamo decidere di chiudere tutto. Io dunque propongo lockdown per l'Italia, deciderà il governo nella sua responsabilità. Per la campagna faremo quello che riteniamo giusto per noi. Io credo che dobbiamo chiudere tutto tranne le attività industriali, le attività agricole, le attività dell'edilizia, l'agroalimentare, le forniture agroalimentari, le cose che abbiamo già conosciuto a marzo, a febbraio, ad aprile. Chiudere tutto tranne le attività essenziali. Credo che dobbiamo bloccare la mobilità interregionale, credo che dobbiamo bloccare la mobilità fra comuni, e cioè dobbiamo fare quello che abbiamo fatto a marzo, né più né meno, tentando di difendere per quanto possibile le attività produttive, per quanto possibile. Perché dobbiamo intervenire oggi? Oggi siamo ancora in tempo. Oggi abbiamo una situazione pesante, ma non siamo alla tragedia. Però siamo a un passo dalla tragedia. Detto in maniera brutalmente chiara, io non voglio trovarmi di fronte qui da noi ai camion militari che portano centinaia di bare, e di persone decedute. Non siamo garantiti da nessuno che questo non avvenga, se non dalla nostra responsabilità, dalla correttezza dei nostri comportamenti e anche dalle decisioni che prendiamo da subito. altrimenti quelle immagini che abbiamo visto qualche mese fa sono destinate a riprodursi e a entrare nella nostra vita in maniera drammatica. è evidente che siamo di fronte ad un momento che è grave. Io chiedo ai nostri concittadini una cosa soltanto. Da oggi in poi, sentitevi soltanto, esseri umani, non ci sono più distinzioni, né politiche, né religiose, né economiche, né ideologiche. e da oggi in poi siate soltanto esseri umani, donne e uomini impegnati a difendere la vita dei propri figli, la vita delle proprie famiglie. Tutto il resto viene dopo. Anzi, tutto il resto non conta nulla. Siate soltanto esseri umani. E basta. La situazione che abbiamo oggi in Campania è questa. Abbiamo 2.280 positivi su 15.800 tamponi. Abbiamo cioè il 14,5% di contagi rispetto al 12,8% di ieri. Noi in Campania dobbiamo difendere con i denti un dato straordinario che abbiamo difeso nei mesi passati. È stato un miracolo per la Campania, grazie soprattutto alla grande professionalità del nostro personale medico e sanitario. Questo miracolo che abbiamo conseguito nei mesi passati è costituito da un numero che ovviamente tutti quelli che hanno fatto in queste settimane sciacallaggio mediatico e politico non hanno mai ritiamato. Ed è il numero sostanziale. Cioè la quantità di persone decedute ogni 100.000 abitanti. Vi voglio richiamare questo dato per dire che abbiamo un risultato miracoloso che dobbiamo difendere con i denti in Campania. Quanti sono i morti le persone decedute nelle principali regioni d'Italia in questi mesi quindi non solo i mesi del lockdown stretto ma anche i mesi da maggio a venire avanti. In Lombardia abbiamo avuto in questi mesi 169 morti ogni 100.000 abitanti in Liguria 108 morti ogni 100.000 abitanti in Emilia 101 morti ogni 100.000 abitanti Piemonte 97 morti Marche 65 morti Veneto 46 morti ogni 100.000 abitanti Toscana 33 Friuli 30 Lazio 18 morti ogni 100.000 abitanti Puglia 16 Sardegna 11 Sardegna 11 Umbria 11 Campania 9 9 morti ogni 100.000 abitanti in Campania 169 ogni 100.000 in Lombardia 108 in Liguria 101 in Emilia Noi dobbiamo difendere con i denti di questo che è il risultato principale della battaglia contro il covid Tutto il resto è secondario L'obiettivo sostanziale è difendere la vita umana dei nostri concittadini Questo risultato che è un miracolo per la Campania Noi lo difendiamo se prendiamo decisioni ma anche se abbiamo comportamenti responsabili e civili Voglio farvi vedere qualche immagine Abbiamo l'immagine di una di una TAC Questa è l'immagine di una tomografia computerizzata quindi una TAC polmonare che è stata fatta a un uomo di 37 anni arrivato al Cotugno tanto per ricordare che cosa è il covid e che cosa può significare ovviamente da caso a caso le situazioni sono diverse ma che cosa significa il covid quando si presenta in una forma grave vedete questa TAC polmonare le immagini scure sono le immagini le parti del polmone che ancora funziona che ancora ha un'attività respiratoria tutta la parte bianca dei polmoni è la parte che non funziona più che non ha più un'attività respiratoria Questo è un uomo di 37 anni che è portato in terapia intensiva che senza il ventilatore polmonare è destinato a morire Stiamo parlando di cose di una gravità estrema rispetto alle quali a nessuno è consentito più né di sottovalutare né di scherzare Ve lo dico perché vedete queste altre immagini che riguardano una festa non di dieci anni fa di domenica scorsa a Bagnoli sulla spiaggia centinaia di ragazzi senza mascherina che in questa situazione drammatica si permettono di festeggiare senza nessuna protezione siamo alla irresponsabilità totale e queste immagini sono le stesse che ritroviamo la sera davanti ai bar la notte nelle ore della Movida davanti alle scuole agli ingressi e alle uscite sono queste le situazioni che hanno portato ad una diffusione enorme del contagio e rispetto alle quali dobbiamo prendere decisioni oggi oggi dobbiamo fare l'ultimo tentativo per bloccare l'esplosione del contagio quindi dobbiamo chiudere tutto per un mese per 40 giorni per frenare l'esplosione del contagio poi si vedrà fra un mese credo che in Germania stiano adottando questo sistema si chiude tutto per un mese si lavora per spegnere i focolai o la crescita esponenziale del contagio poi magari se la situazione ritorna sotto controllo si può cominciare a riaprire ma è evidente che senza decisioni drastiche non possiamo più reggere e dobbiamo farlo oggi quello che è necessario perché siamo ancora in condizione di reggere domani non sarebbe più possibile allora oggi perché dobbiamo andare verso decisioni drastiche senza mezze misure il livello di contagio è quello che vi ho detto per quello che riguarda la Campania ma a livello nazionale il dato sarà pesantissimo oggi abbiamo ancora una situazione degli asintomatici che non è gravissima ma come vi ho già detto questo dato non ci deve confortare perché a mano a mano che il numero dei contagiati cresce cresce anche il numero delle persone che hanno i sintomi anche sintomi gravi e rispetto a febbraio marzo aprile abbiamo due elementi in più che non c'erano allora e che sono destinati inevitabilmente a far crescere il contagio l'apertura delle scuole e la stagione influenzale andiamo per di più verso l'inverno non verso la primavera estate e dunque oltre ad avere dei numeri che sono enormemente più elevati rispetto a febbraio marzo abbiamo alcuni altri elementi che allora non c'erano scuole aperte influenza l'inverno dunque è assolutamente prevedibile che avremo un aggravamento della situazione per ragioni oggettive allora analiticamente che cosa stiamo facendo che cosa dobbiamo fare primo punto posti letto abbiamo una situazione pesante ma la programmazione che abbiamo fatto ci consente ancora di leggere ma dobbiamo sapere che con questi numeri non c'è nessun sistema ospedaliero al mondo in grado di reggere l'onda d'urto oggi reggiamo grazie allo spirito di sacrificio di migliaia di medici infermieri personale sanitario ma dobbiamo sapere che nel giro di pochi giorni rischiamo di avere le terapie intensive intasate terapie intensive vi ricordate la campagna di sciacallaggio mediatico di qualche settimana fa qualche mese fa avete aperto l'ospedale modulare non ci sono i malati il virus vi ha accontentato cominciamo ad avere quelle strutture che grazie a Dio abbiamo preparato qualche mese fa 120 posti letto di terapia intensiva che cominciano ad ospitare pazienti gravi non basterà abbiamo come sapete già eliminato le prestazioni non essenziali quelle salva vita perché dobbiamo recuperare ogni benedetto giorno ormai da 60 a 80 posti letto in più è evidente che nel giro di pochi giorni non reggeremo dunque abbiamo eliminato tutte le prestazioni non salva vita le prestazioni salva vita saranno garantite come sono state garantite a febbraio marzo aprile comunque ma è evidente che le cose secondarie vanno rinviate se vogliamo avere i posti letto necessari e non immaginare di avere i nostri padri e le nostre madri messi per terra perché magari non c'è un posto letto libero quindi l'indicazione che abbiamo dato ai direttori generali è di fare tutto quello che è necessario per liberare i posti letto e di mandare a casa anche i pazienti positivi ma che non hanno sintomi gravi non possono stare pazienti che hanno solo una linea di febbre e più niente 15 giorni in un reparto ospedaliero perché significa non dare il posto letto a chi veramente poi ha una malattia grave chiedo ai medici di medicina generale di aiutarci a filtrare i pazienti che hanno pochi scarsi sintomi e che devono rimanere a casa in isolamento domiciliare e devono essere seguiti dalle ASL quando ce la fanno o dai medici di famiglia dovremo coinvolgere le strutture private le cliniche private dovremo fare l'operazione di spostamento dei pazienti dalle strutture pubbliche anche nelle strutture private dobbiamo fare convenzioni aggiuntive ad hoc per dedicare per quanto possibile le strutture pubbliche ai pazienti più gravi e comunque ai pazienti covid per quanto riguarda i tamponi sapete che siamo arrivati a cifre ormai importanti ieri abbiamo fatto 15.800 tamponi i tre quarti dei tamponi li fanno i laboratori pubblici abbiamo avuto un aiuto importante anche da laboratori privati nell'ambito dei quali tuttavia vi è sempre un 10% di persone scorrette vi dico fra un attimo per quanto riguarda i tamponi abbiamo una situazione di questo tipo abbiamo ancora tempi troppo lunghi non per fare i tamponi in qualche caso anche per farli ma soprattutto per comunicare i risultati dei tamponi nel corso della prossima settimana noi avremo a disposizione altri 5 laboratori 5 macchine che abbiamo comprato con una gara che abbiamo fatto ad aprile quindi aumenterà anche il numero dei tamponi ma la cosa più importante non è questa la cosa più importante è dare ai cittadini in tempi rapidi il risultato dei tamponi e abbiamo ancora situazioni non all'altezza degli obiettivi che abbiamo dato abbiamo cominciato a utilizzare la piattaforma digitale della regione campania Sinfonia dove hanno l'obbligo di mandare tutti i dati i laboratori pubblici e i laboratori privati l'obiettivo a cui stiamo lavorando è quello di trasmettere nel giro di 12 ore il risultato del tampone positivo o negativo al cittadino che ha fatto il tampone quali sono i problemi primo c'è un problema quasi banale tutti i cittadini devono preoccuparsi di lasciare il numero del proprio cellulare nei mesi scorsi abbiamo registrato comportamenti scorretti anche su questo piano cittadini che non rilasciavano l'indirizzo giusto davano numeri di telefono sbagliati ci è capitato di telefonare con i dipartimenti di prevenzione al numero rilasciato era completamente sballato allora cerchiamo di fare le persone responsabili dare il numero di cellulare sempre per consentirci di mandare entro le 12 ore i risultati del tampone se raggiungiamo questo obiettivo facciamo un altro miracolo stiamo lavorando in queste ore asl per asl laboratorio per laboratorio per risolvere i problemi e consentire l'invio immediato dei risultati sulla piattaforma digitale nel corso di questi giorni abbiamo già inviato 4.700 sms a cittadini che hanno fatto il tampone 4.700 sms nelle 12 ore abbiamo la situazione a Machia Iropardo in alcune realtà particolare di Salerno alcuni territori ancora una settimana per fare il tampone non esiste bisogna dare l'anima per entrare al regime se sono stati fatti i tamponi dieci giorni fa e non abbiamo risultati rifacciamoli perché probabilmente non sono più affidabili i risultati ma ripartiamo da oggi da zero abbiamo risolto problemi di affanno nei laboratori pubblici consentendo di fare i tamponi anche ai laboratori privati qui dobbiamo capirci perché abbiamo una situazione che è diventata delicata innanzitutto una informazione di servizio noi abbiamo messo in lockdown in quarantena la città di Arzano ad Arzano avevamo ormai un positivo ogni 300 abitanti abbiamo deciso di fare i tamponi a tutti e 34 mila i cittadini di Arzano la Napoli 2 l'istituto zoprofilattico la protezione civile sono impegnati da domenica a lunedì a fare lo screening di massa a tutti e 34 mila i nostri concittadini di Arzano quelli con il cognome dalla lettera A alla lettera M possono andare presso le quattro scuole sedi di seggio elettorale a fare i tamponi dalla lettera M alla lettera 0 Z nella giornata di lunedì è un altro sforzo enorme 34 mila persone da testare in due giorni parlavamo dei laboratori privati allora noi abbiamo registrato in queste ore in questi giorni un aiuto importante del 90% dei laboratori che lavorando in maniera corretta ci hanno dato una grande mano e hanno fatto correttamente le segnalazioni sulla piattaforma digitale in maniera tale da consentirci di mandare l'SMS al cittadino allora alcuni chiarimenti primo dobbiamo rivolgerci ai laboratori privati accreditati c'è l'elenco che voi potete trovare sul sito internet della regione campania ci sono laboratori privati autorizzati ad effettuare l'analisi dei tamponi molecolari e sono soltanto quelli presenti in quell'elenco abbiamo registrato in qualche caso due comportamenti scorretti da parte di alcuni laboratori privati i laboratori hanno l'obbligo di segnalare all'AS dal dipartimento di prevenzione i casi positivi perché i casi positivi devono essere messi in quarantena ci è stato segnalato che alcuni laboratori su richiesta di privati cittadini che magari per continuare ad andare a lavorare sono positivi ma sintomatici o sono impegnati magari in attività dell'economia sommersa la regione campania è complicata anche per questo chiedono che non sia comunicato all'AS il risultato abbiamo chiesto l'impegno dei carabinieri dei NAS per fare i controlli perché se ci sono laboratori che fanno questi giochi i titolari vanno in galera vanno in galera questa è epidemia colposa diciamo è un reato seconda anomalia che in qualche caso abbiamo registrato per fare presto qualche laboratorio privato anziché fare il tampone molecolare quello chiesto dalla regione fanno tamponi rapidi antigenici quelli che danno il risultato in tempi rapidi ma non sono affidabili c'è anche qualche laboratorio che anziché processare il singolo tampone ne mette insieme dieci poi se esce il positivo fa l'indagine più accurata non va bene queste sono cose speculative che servono a fare soldi sulla pelle dei cittadini anche in questo caso noi abbiamo chiesto l'intervento dei carabinieri del NAS per fare accertamenti su chi non si comporta correttamente tutto ovviamente deve essere dalla prossima settimana contiamo di entrare al regime tutto deve entrare sulla piattaforma sinfonia della regione campania basta un po' di attenzione e saremo in grado dalla fine della prossima settimana di fare quest'altro miracolo entro le 12 ore il tempo strettamente necessario per la lavorazione del tampone manderemo sull'SMS per chi ha la bontà di comunicare il suo cellulare manderemo il risultato del tampone positivo o negativo sarà un modo anche per comunicare ai sindaci più rapidamente i nominativi dei cittadini positivi per controllare che siano in isolamento domiciliare fra i tanti motivi di urgenza ne ricordo un altro quando abbiamo questi numeri lo screening il tracciamento dei contatti il contact tracing cioè l'indagine che si fa sui contatti stretti che ha avuto il positivo i familiari i colleghi di lavoro gli amici questo lavoro è diventato ormai impossibile se vogliamo dire la verità perché quando hai migliaia al giorno di nuovi positivi non c'è struttura sanitaria che regga diventa impossibile andare a ricostruire tutta la rete dei contagi questo vuol dire che bisogna essere ancora di più responsabili e corretti vaccinazioni per le vaccinazioni voi sapete anche questa è una notizia che non vi daranno quelli impegnati nelle operazioni di sciacallaggio mediatico e politico siamo la prima regione d'italia che ha cominciato la campagna di vaccinazione dobbiamo proseguire così vaccinare quanti più cittadini e bambini della nostra regione il dato che abbiamo ad oggi è questo le dosi di vaccino consegnate sono 906 mila le vaccinazioni fatte 540 mila è un dato straordinario abbiamo consegnato ai medici medicina generale 766 mila vaccini ai pediatri di libera scelta 117 mila agli operatori sanitari 22 mila fra una settimana consegniamo alle farmacie una dose rilevante di vaccini per chi voglia fornirseli direttamente abbiamo dato per le residenze sanitarie assistite un quantitativo di 5 mila dosi di un vaccino influenzale quadrivalente cioè più potente per dare una uno scudo più forte rispetto all'epidemia influenzale la campagna di vaccinazione è preziosa per evitare che nelle prossime settimane si riversino negli ospedali decine di migliaia di persone con un sintomo influenzale che si confonde con quello covid scuola sul tema della scuola io ho ascoltato in questi giorni alcune delle affermazioni più stupide e più irresponsabili cominciamo dalla prima le scuole sono le ultime cose che dobbiamo chiudere questa è un'affermazione totalmente irresponsabile le prime da chiudere o le ultime attività da chiudere sono determinate dal livello di contagio non in astratto qui abbiamo chiuso ospedali reparti le ultime cose da chiudere sono gli ospedali tanto per cominciare e le priorità sono dettate dal numero di contagiati che abbiamo non dagli ideologismi sembra un'affermazione banale e tuttavia dobbiamo ripeterla i dati che ci vengono prendiamo una realtà specifica Napoli 2 negli ultimi giorni abbiamo fatto 1321 tamponi nel programma scuola sicura i dati che ci fornisce l'asl parlo degli ultimi giorni sono questi Napoli 2 50 positivi 5 positivi nella fascia da 0 a 5 anni 17 positivi nella fascia da 6 a 10 anni 17 positivi 12 positivi nella fascia 11-13 anni 9 positivi nella fascia 14-19 7 positivi fra gli operatori scolastici il totale dei dati che registra l'asl Napoli 2 nelle scuole del suo territorio è di 160 positivi fra docenti e studenti di tutte le fasce di età e tenendo conto dei contagi correlati ma sempre in ambito scolastico parliamo di 380 positivi nel mondo della scuola della Napoli 2 la mia domanda di fronte a questo dato dei contagi che riguardano studenti docenti e non docenti qual è la risposta che la ragione ci consiglia di dare sicuramente non è quella irresponsabile che abbiamo sentito noi dobbiamo continuare e chiudiamo per ultimo io credo che la risposta ragionevole da dare sia un'altra evitiamo che il contagio si diffonda in maniera incontrollata anche sulla popolazione studentesca poi sulle famiglie perché i ragazzi contagiano i familiari e cerchiamo di potenziare la didattica a distanza punto se qualcuno ha altre risposte più sensate più ragionevoli cioè in grado di bloccare l'espansione incontrollata dell'epidemia ce la fornesca noi siamo pronti ad accettarla ad oggi ci sono state dette solo cose di una banalità assoluta e di una irresponsabilità ancora più grande allora voi sapete che noi abbiamo non chiuso le scuole non chiudiamo niente noi chiudiamo la mobilità e gli assembramenti poi la didattica la decidono le autorità scolastiche se farla in presenza o se farla a distanza quindi le scuole rimangono aperte quello che si chiude è il livello di assembramento o la mobilità abbiamo riconfermato la nostra ordinanza dopo che alcuni buontemponi si erano rivolti al TAR contro l'ordinanza della regione volevo dire cose un po' pesanti nei confronti di alcune mamme vi devo dire sinceramente io mamme disponibili a mandare i bambini a scuola in queste condizioni di contagio non ne ho incontrate non ne ho incontrata nessuna nessuna non so se erano quelle che si sono presentate come le mamme lasciamo perdere dovremmo dire cose pesanti allora quando abbiamo preso i nostri provvedimenti abbiamo deciso dopo di consentire l'arrivo in classe per bambini disabili bambini autistici e abbiamo riservato l'apertura delle scuole elementari a lunedì prossimo previa verifica della situazione del contagio anche questa cosa che credo di una chiarezza estrema verifichiamo lunedì se è possibile aprire le elementari dopo aver fatto la verifica con i responsabili sanitari c'è stato qualche organo di informazione che si è permesso di fare speculazioni pure su questo si apre si chiude si apre si chiude abbiamo parlato chiaro si aprono le elementari se ci sono le condizioni di tutela della salute dei bambini se no si chiudono per quello che riguarda la mobilità poi per il resto decidano le autorità scolastiche abbiamo verificato in questi giorni un altro dato abbiamo fatto hanno fatto gli esperti dell'unità di crisi una comparazione fra il contagio che abbiamo avuto fra tutta la popolazione in generale è il contagio che abbiamo avuto nella fascia di età da 0 a 18 anni nelle due settimane prima dell'apertura scolastica e nelle due settimane successive cioè la settimana dal 3 al 24 prima dell'apertura dell'anno scolastico e quello che è successo dal 24 al 15 ottobre in termini di epidemia il risultato che ci hanno dato è questo noi abbiamo avuto nella popolazione generale fra prima e dopo le due settimane prima e le due settimane dopo un aumento di tre volte del contagio per quanto riguarda invece la fascia di età da 0 a 18 anni nelle due settimane dopo l'apertura dell'anno scolastico ha registrato un aumento del contagio di nove volte questo vuol dire che l'apertura dell'anno scolastico non è una cosa ininfluente rispetto alla diffusione del contagio perché i ragazzi girano prima dell'apertura delle scuole all'uscita delle scuole nella movida riportano il contagio in famiglia perché sono vettori potenti di contagio la fascia di età nella quale abbiamo registrato questo aumento l'aumento complessivo su tutta la popolazione nelle seconde due settimane è questo da 276 contagi a 1816 allora per quanto riguarda la fascia di età 0 18 anni siamo passati nelle due settimane prima dell'apertura all'anno scolastico nella fascia da 0 a 5 anni da 88 positivi a 402 positivi vi ripeto il dato nella fascia da 0 anni a 5 anni prima le due settimane prima del 24 settembre avevamo 88 positivi le due settimane dopo il 24 settembre abbiamo avuto 402 positivi nella fascia da 6 a 10 anni prima 57 contagi dopo l'apertura 476 contagi nella fascia 11 14 anni prima dell'apertura 49 contagi le due settimane dopo l'apertura della scuola 479 contagi fascia 15 18 anni 82 contagi prima 558 contagi dopo l'apertura questi sono i dati che ci dicono gli epidemiologi e sono la fotografia oggettiva della situazione in questa situazione ovviamente noi possiamo anche decidere che facciamo una scelta possiamo decidere lo faccia il governo nazionale che questi dati li ignoriamo e che magari per fasce di età apriamo tutto beh dobbiamo sapere che le fasce di età che hanno registrato un aumento del contagio di nove volte fra prima e dopo l'apertura dell'anno scolastico hanno avuto la stessa incidenza non c'è neanche una differenza fra bambini piccoli e sedicenni diciottene passiamo da 402 contagi in più da 0 5 anni a 479 11 14 anni 558 15 18 anni allora anche da questo punto di vista è l'ora della responsabilità e delle decisioni consapevoli possiamo fare tutto per quello che mi riguarda se i dati sono questi non si apre alla mobilità e sarà inevitabile mantenere la didattica a distanza so bene quanti sacrifici e quanti problemi una decisione del genere determina pongo alle mamme e ai papà la domanda che pongo a me stesso anche di notte l'alternativa qual è vi sentite di mandare i vostri bambini a scuola in queste condizioni credo che non ci sia nessuna mamma e nessun papà degno di questo nome che possa prendere una decisione del genere sinceramente vi daremo ovviamente le informazioni nei prossimi giorni ci sarà una riunione dell'unità di crisi sabato mattina che farà una valutazione sulla parte che riguarda questi dati del contagio specificamente rivolti al mondo della scuola dopodiché l'unità di crisi ci comunicherà qual è la situazione del contagio e qualcuno di noi sulla base di quei dati dovrà assumersi la responsabilità di decidere qualcuno di noi deciderà sabato sulla base di quello che gli epidemiologi e i medici diranno infine è chiaro che nel momento in cui si prendono decisioni drastiche abbiamo una ricaduta pesante su tanti settori economici io credo che dobbiamo fare di tutto ovviamente per non bloccare l'industria l'agricoltura figuriamoci l'edilizia le attività di trasporto connesse all'agroalimentare tutte le cose che già sappiamo ma è inevitabile che ci sia una ricaduta pesante su tanti settori del commercio della ristorazione allora io voglio dire con grande chiarezza questo lo dico al governo ormai la discussione non riguarda più chiudere o aprire si chiude non perdiamo più tempo per quello che mi riguarda oggi l'unica discussione da fare facciamola subito è quella relativa a un piano di misure socio-economiche di aiuto alle categorie colpite oggi l'unica discussione vera da fare è questa come sanno i nostri concittadini perché glielo abbiamo detto noi e perché lo hanno verificato direttamente loro la Campania ha provato già un piano di aiuti socio-economici di un miliardo e 17 milioni di euro in occasione della prima ondata di epidemia lo ha fatto solo la Campania in quelle dimensioni bene io e lo propongo formalmente al governo chiedo che si apra in sede di conferenza Stato-Regioni una discussione concludente e rapida sulle misure economiche di sostegno alle categorie che saranno colpite evitiamo di perdere tempo sul resto ormai il problema all'ordine del giorno è questo allora dobbiamo decidere sulla cassa integrazione immediata sul blocco dei fitti in caso di chiusura riduzione del 50% dei fitti a fine pandemia leggo alcune richieste fatte da alcune associazioni del commercio da gruppi di commercianti che in maniera estremamente corretta e collaborativa hanno anche detto se è necessario si chiuda ma dateci una mano senza polemiche inutili sospensione della tassazione di contributi e IVA sospensione dei pagamenti delle utenze e così via allora da oggi in poi il ragionamento da fare con le categorie è questo qual è il piano socio-economico che nel giro di due settimane mettiamo in piedi utilizzando appieno i miliardi di euro di fondi europei che ci vengono messi a disposizione tanto più che abbiamo nelle nostre zone situazioni di crisi che esplodono o si ripropongono penso alla Whirlpool abbiamo messo a disposizione 20 milioni di euro come regione per favorire i nuovi investimenti ci auguriamo ovviamente che anche le situazioni di crisi aziendale vengono seguite con l'attenzione necessaria devo dirvi che in questi giorni a fronte di un atteggiamento di sciacallaggio ignobile da parte di un ministro improbabile abbiamo avuto rapporti di grande correttezza con altri esponenti di governo che voglio ringraziare dal ministro Speranza che collabora pienamente consapevole della gravità della situazione e capisce cos'è la campania al ministro dell'interno al capo della polizia che hanno corrisposto alla domanda che avevamo fatto anche di invio di nuove forze ho avuto ieri un colloquio anche cordiale con il ministro Patuanelli a cui ho segnalato un'emergenza che riguarda la metanizzazione del Cilento il ministro Patuanelli ha risposto in maniera estremamente garbata civile e collaborativa lo ringrazio gli do atto a conferma del fatto che anche nel governo come nelle forze politiche ci sono i tangheri ci sono gli sciacalli e ci sono le persone per bene che io ringrazio e con le quali ovviamente manterremo un rapporto di collaborazione molto stretto allora cari amici cari nostri concittadini ho cercato di parlarvi come sempre un linguaggio di verità voi sapete che il destino della campagna è quello di fare sempre da rompighiaccio di anticipare cose che poi gli altri fanno dopo abbiamo anticipato la campagna di vaccinazione e non era scontato abbiamo anticipato e lo abbiamo fatto da soli il controllo obbligatorio per chi rientrava dall'estero abbiamo anticipato l'ordinanza che rendeva obbligatorio l'uso della mascherina anche all'esterno abbiamo anticipato il divieto di asporto per quelle attività commerciali che non hanno posti a sedere abbiamo anticipato misure che riguardano il mondo della scuola era diventata una bestemmia parlare del mondo della scuola poi ho visto che negli ultimi giorni hanno fatto praticamente in tutta Italia quello che abbiamo fatto noi dieci giorni fa non c'è niente da fare questo è il nostro destino prendiamola come una missione dobbiamo dare coraggio a un paese che spesso di coraggio non ne ha molto e in qualche caso anzi in molti casi dobbiamo anticipare noi quello che poi altre realtà fanno esattamente come noi noi siamo chiamati in queste ore a prendere decisioni difficili mi sono chiari i motivi di sofferenza di disagio di pesantezza di vita che queste decisioni determinano per le singole persone per le famiglie per le attività economiche rivolgo a tutti quanti voi la domanda di sempre qual è l'alternativa vedete io credo che se dobbiamo prendere e lo ripeto il tempo è arrivato la decisione di chiudere meglio farlo oggi se decidiamo oggi senza perdere tempo probabilmente abbiamo la possibilità di arrivare al periodo di Natale in condizioni migliori e forse possiamo anche immaginare una riapertura parziale tutto sommato non è quello che abbiamo davanti un mese di grandissima vivacità anche sul piano commerciale se dobbiamo chiudere meglio chiudere oggi questa è la mia convinzione allora io sono consapevole che sono cose complicate che determinano problemi ma vi prego di credere e sono convinto che tutte le persone intellettualmente oneste lo capiscono bene non abbiamo alternative se vogliamo tutelare i nostri figli i nostri anziani le nostre famiglie non abbiamo alternative è un momento difficile cerchiamo di affrontarlo con la consapevolezza necessaria da persone responsabili volevo dire da uomini è un'espressione che non si usa più certamente non la userò per un ministro di questo governo affrontiamola da uomini se volete da umani da persone cioè consapevoli che in questi momenti nei momenti nei quali un paese è in guerra non c'è nulla che ci distingue siamo parte di un'unica comunità di un'unica famiglia di una sola umanità cerchiamo di essere consapevoli di questo grazie a tutti per quello che vorrete fare grazie per la comprensione che vorrete darci grazie per l'aiuto che vorrete darci un saluto cordiale ed affettuoso a voi e alle vostre famiglie grazie a tutti